Alvia concorsi per sette medici all'ASL di Avezzano sul Monal Aquila in pediatria e neonatologia. Con l'imminente approvazione dell'atto aziendale, l'ASL provinciale dell'Aquila avvia infatti la stagione dei concorsi destinata a potenziare nettamente gli organici e a migliorare il livello complessivo dei servizi in provincia. I primi due concorsi con cui si aprirà la corposa emissione di nuovo personale saranno quelli di pediatria e neonatologia per i quali la Regione ha già dato l'autorizzazione all'ASL che costituiscono un'anticipazione del piano di assunzioni del 2018. Si tratta di una tornata di assunzioni che imprimerà una forte accelerazione al potenziamento di personale rafforzando l'attività di numerosi reparti ospedalieri. Nei giorni scorsi la direzione ASL guidata dal manager Tordera ha avviato le procedure per il concorso di pediatria che servirà a reclutare due medici e per quello di neonatologia che permetterà alla ASL di assumere altri cinque medici portando a sette il numero di dirigenti medici che prenderanno servizio all'interno delle varie aree della provincia. L'arrivo di questi sette medici, ha spiegato Tordera, sarà solo un antipasto della massiccia assunzione di nuovi operatori che consentirà di rafforzare la dotazione di personale. In tal modo si provvederà a integrare gli organici laddove sono meno forti e al contempo avremo la possibilità di alzare ancora l'asticella della qualità in quegli ospedali dove già disponiamo di servizi molto efficienti, ha dichiarato il manager.